NOSTALGIA Se qualcuno ha nostalgia dell'età dell'oro, l'ha vissuta. Se qualcuno ha nostalgia del cielo, vi è già stato. Se qualcuno ha nostalgia dell'amore di Dio e dell'amore per Dio, è stato già bruciato dal suo amore ed è arso d'amore per lui. La nostalgia altro non è che un richiamo di Dio per attirarci a sé, volendo lui renderci felici amando, perché senza l'amore non può esservi letizia alcuna e ha una fonte unica all'amore, l'universo.